Il parco del quartiere Flaminio mancava al nostro appello del verde pubblico bisognoso di manutenzione. Stimolati come sempre dalle segnalazioni dei residenti siamo andati stamattina di buon'ora sul posto per verificare le condizioni di altalene, giochi a molla, strutture in legno con scivoli che ci venivano date per malconce. Dopo un rapido giro abituati a situazioni molto più eclatanti viste in altri luoghi, qui apparentemente tutto era a posto. Niente affatto, la magagna ci viene subito svelata da una gentile nonna con nipotini annessi che a cortesi della nostra presenza e del nostro titubare si precipita subito in strada e ci svela l'arcano. Esatto, noi ci mettiamo mano perché altrimenti non si è visto mai nessuno aggiustarli. Io ho una vita che abito qui e questi parchi sono abbandonati da tutto. Quindi persone anziane come il signore che ha messo il sellino sul cavalluccio hanno messo un po' la loro buona volontà. Esatto, hanno messo la buona volontà e anche mio marito ha intervenuto parecchie volte per non farsi male a loro perché altrimenti non si vede nessuno, questo ci tengo a dirlo. Gli inequivocabili segni della mano dell'uomo ci vengono quindi subito mostrati. Un pannello protettivo dello scivolo distrutto dai vandali prontamente rattoppato con due assi in legno ed una traversa in ferro con viti e chiodi per scongiurare disastrose cadute per i più piccoli anche se il pericolo rimane. Nel 2016 poi un volenteroso nonnino esperto in legno ha ricostruito di sana pianta con la sua mano e rimesso al suo posto il sellino in legno del gioco a molla dopo due anni che mancava ridandolo alla gioia così dei più piccoli ma incidendo su un legno a futura memoria della sua buona opera il nome e la data del manufatto. E l'elenco degli interventi privati sui giochi si allunga, la corda di uno dei due scivoli sostituita è rimessa in uso, le catene delle altanene rimesse in ordine ben oliate più di una volta, un importante cartello stradale di segnaletica verticale rotto e sradicato dalla sua sede dai fessi di turno rimesso in uso con un buon pezzo di filo di ferro e la volontà di un anziano di rimpettaio. Per non parlare poi degli interventi quasi quotidiani sulle staccionate in legno laterali sempre oggetto dei malsani desideri dei vandali urbani ben presenti anche qui soprattutto nelle ore piccole. Ora dopo oltre 40 anni della sua creazione i volenterosi ed efficienti residenti chiedono però che anche chi di dovere si occupi di questo piccolo polmone verde cittadino. Lo scivolo si muove tutto di continuo e poi anche quello là è pericolosissimo perché di fianco i bambini cadono, è pericoloso allora un occhio, non dico ta, non pretendo molto però un occhio.